Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi andremo a vedere qualche import che verrà messa in Dimension Force E si, in estremo ritardo perché io pensavo che dato che più o meno erano usciti i primi opening magari dei creator Che di solito come accade, tempo 1-2 giorni e ci stanno tutte le carte con tutte le realità E invece no, ho spettato inutilmente Quindi andremo a vedere un po' gli import Ci sono stati buoni import E le nuove carte Libro Mancer E le andiamo a vedere oggi Poi quando uscirà tutto quanto, porteremo tutto quanto Prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro giornale Vi posto il link che sto in descrizione Prima di essere aggiornati con il mondo dei Yugi E vi ringrazio ancora per i 2000 iscritti Tanta tanta roba che io non mi sarei mai aspettato Ma andiamo con ordine Quindi andiamo a vedere la Changshi the Spiritualist Il Chosai, Ghost Blocker Curse of Dragon, The Magical Night Dragon Motor Violence Che credo abbia cambiato nome Lo Dice Wind Dragon Lo Yakuza I... Katuchi no Kami E poi andremo a vedere le carte Libro Mancer Al Navi E il Pad Shell Grazie poi a una pagina Instagram Io di solito vorrei evitare di utilizzare le pagine Instagram Però comunque vabbè Io le utilizzo E le cito sempre come è giusto che siano In descrizione Poi vabbè si vede che non è il mio Cioè si vede che la pagina non è la mia Andiamo a vedere la Changshi the Spiritualist Durante la Mind Face possiamo mandare un zombie dalla mano o un deck al cimitero Se questa carta viene bandita possiamo bandire uno zombie dal cimitero E' speciale questa carta ma la piazziamo in fondo al mazzo quando questa carta lascia il terreno Molto carina perché comunque tu ti mandi un mostro dalla mano o un deck al cimitero Zombie quindi il macinare va sempre benissimo Poi se viene bannata quindi anche magari con un sarcofago d'oro Ti bandisci magari un altro mostro zombie che si degrea sicuramente l'effetto Mentre lei effetto un macino di roba molto molto buona Carta abbastanza carina C'ho sai Nessun giocatore può attivare Spell Trap Gli effetti e le mangiate trappole al cimitero Se questa carta viene mandata ad alternare al cimitero Targettiamo la Spell Trap dell'oppo e la bandiamo Carta molto buona per un ipotetico antimeta Così oltre magari a bloccare i mostri blocchi gli effetti delle carte magia e trappola Va bene che magari un antimeta invece di metterci questo uno ci mette necro valle Però insomma magari si attivano gli effetti delle carte magia e trappola senza rimuoverle E quindi potrebbe essere comunque una sorta di carta che potrebbe essere inserita Quindi per nulla male Altra carta molto buona Course of Dragon e Magical Night Dragon Un mostro guerriero più un mostro livello 5 superiore a drago Se questa carta viene evocata tramite fusione possiamo poter creare una Spell Trap Che cita Gaia e Gaia il dragone Gaia del Dragon Champion dovrebbe essere il dragone Nel testo nel cimitero aggiungerlo alla mano Possiamo utilizzare questo effetto una volta per turno Se fusionamo a Moser7 Drago possiamo utilizzare questa carta al cimitero come materiale bandendola Qua è livello 5 1,2,3,4,4,No, livello 6 Poi Motor Violet Che brutto Se questa carta o un altro mostro macchina viene nominato a specializzare il tuo terreno possiamo fare guadagnare un mostro evocato attacco pari alla sua difesa originale A metà della sua difesa originale e la sua posizione di battaglia non può essere cambiata Questo effetto dura fino alla fine del tuo avversario se questa carta viene tributata e mandata al cimitero a specializzare un 2 engine token livello 1 200-200 in attacco Carta che avevamo già visto ma penso come un po' tutte queste qui perché nel corso del tempo ci stanno un sacco di carte che noi andiamo a vedere Quindi è normale che si ripropongono On dice with dragon Effetto pendolo una volta per turno prima del calcolo dei danni se un mostro combatte contro un mostro e l'avversario facciamo guadagnare attacco pari all'attacco del mostro avversario fino al damage step fino alla fine della damage Poi evocazione un mostro dark tuner più 1 1 più mostri non tunnel clear wing monster Se questa carta è una zona mostri viene rotta la piazziamo nella zona pendolo E una volta vabbè un effetto una volta per turno possiamo targettare un mostro di effetto dell'avversario Vediamo l'effetto fino alla fine del turno durante la battle phase controlliamo il mostro sincro Evocato tramite sincronizzazione effetto rapido distruggiamo tutti i mostri livello 5 superiori che controllano l'avversario Carino carino Ignorante e bello caruccio Poi gli accusa i kazuchi nokami Possiamo specializzare questa carta nella mano bandendo un mostro di livello 8 oppure rank 8 dal cimitero Possiamo targettare un mostro di livello 8 oppure rank 8 Rituale, fusione, sincro, exis nel cimitero Lo peschiamo nel mazzo e applichiamo l'effetto in base alla carta mandata Se è rituale, fusione peschiamo 1 Se è sincro, exis, questa carta manda 1000 di attacco Potrebbe essere molto buono adesso con i mazzi in fusione Perché ovviamente lui vuole che tu ti bagni un mostro di livello 8 Fusione, ta 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 Allora, per speciale questa carta bisogna togliere un mostro di livello 8 Quindi va bene anche un mostro di fusione Al limite No, già sto pensando ad Albaz che hai capito Perché potrebbe essere magari un'aggiuntina in più È utile magari 28 mazzi perché è anche livello 8 Quindi ci sta E poi ci sono le carte Libromancer E Navidragon Match e Patyshell Converture Quindi io chiedo l'ausilio a Duel Daddy Ecco qui la pagina Instagram Se volete andare a seguire così la cito giustamente È scritto ovunque però io continuo a citarla E dato che io non leggo mai gli effetti da qui Li prendo ovviamente dal sito che sono scritti Quindi andiamo a vedere il mostro sincro drago Cioè drago dovrebbe essere misa macchina Navidragon Match Quindi un tuner più un mostro non tuner Se questa carta è specialata possiamo targettare le carte scoperte dell'avversario Fino al numero di mostri tuner nel cimitero Vediamo gli effetti tutti fino alla fine del turno Se questa carta sincro viene spaccata O distrutta l'affetto della carta dell'avversario Targettiamo un tuner nel cimitero e lo aggiungiamo alla mano Ma Carino Carino Potrebbe essere utile anche con Magari se ricevo cartello nel turno del loppo Poi Pazisce il cover tour Effetto pendolo Questa è la mostra fusione Effetto pendolo Se non abbiamo carte nella zona pendolo Possiamo piazzare un mostro pendolo scoperto dall'ex attack in quella zona Potrebbe essere utile come cosa Se questa carta nella Ah se nella zona mostro Se si viene rotta la mettiamo nella zona pendolo Però è buono perché è di livello 5 Instant fusion Evoki Spacchi Va nella zona pendolo Dai Dai Se può fa Se può fa E ecco le carte Libro Mancer Che No Non riesco mai a leggere neanche Neanche queste qui Non credo di riuscire mai a leggerle Ma comunque Voglio fare un piccolo tentativo Allora Devo ammettere che il Libro Mancer A me non mi sono mai piaciuti Anche perché Io prendo il box di Battle of Chaos La carta Secret Che prendo Libro Mancer Che non mi serveva un cavolo Va bene Andiamo a leggere Libro Mancer Fire Possiamo rivelare un mostro rituale alla mano Specialmente questa carta Dalla mano Se questa carta viene specialata Aggiungiamo un Libro Mancer Dal deck alla mano Occetto lui Ok Secret Tipo a D'Addino Best carta del mazzo Libro Mancer Mystic Girl Possiamo evocare tramite rituale Questa carta Con la carta di Bromancer Se questa carta viene evocata Utilizzando un mostro sul terreno L'avversario non può targettare I mostri rituali Che controlliamo con gli effetti dei mostri Ah carina Se questa carta viene specialata Possiamo targettare il mostro scoperto Che controlliamo Fino alla fine del turno Cambiamo il sottacco a zero E gli tengiamo gli effetti Il mostro controllato dall'avversario Ovviamente Carina Non male come carta Poi Libro Mancer Fire Burst Possiamo evocare tramite rituale Questa carta Con una carta Libro Mancer Se questa carta viene evocata tramite rituale Utilizzando mostri sul terreno Non può essere rotta in battaglia E ogni danno che viene effetto Alla persona Non è raddoppiato Questa carta Può fare gli attacchi Su mostri Durante ogni battle phase Quando Gli chiamo l'attacco Bandiamo Un Libro Mancer Rituale Alcimedro Questa carta Può dare 200 di attacco Ragazzi Io devo dire che Molto bella come carta Non lo so Perché mi ricordo tantissimo Mi fa tornare Un sacco indietro Un effetto Mi fa tornare Un sacco indietro E No Bella Cioè Ripeto Non è sproccata Cioè Non è sproccatissima Però È caruccio Perché Doppi e danni Ok Mi sono già contraddetto Questa mi piace Le Libro Mancer Questa in realtà Mi piace un sacco Poi Libro Mancer Real 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 Realicide Libro Mancer Magia Continua Possiamo rivelare Libro Mancer Rituale Nella mano Spaginiamo Fire Token Cybers Attacco 0 Difesa 0 Con lo stesso Nivello Del mostro Rivelato Quando abbiamo Quel token Non possiamo Spaginare mostri Accetto Libro Mancer Ok Carino Perché comunque Gli utilizzi Per farti I rituali Poi Libro Mancer Bond Della carta Magia Rituale Se questa carta Viene utilizzata Per l'evocazione rituale Non qualsiasi No Questa carta Può essere utilizzata Come magia rituale Per ogni carta Libro Mancer Mostro rituale Ok Dobbiamo tributare Mostri Ok Se Ritualiamo Libro Mancer Fire Boss Con questo effetto Utilizzando Libro Mancer Fire Start Sul terreno Può essere rotto O bandito Degli effetti Delle carte Ok Il bandito E' nuova Perché Molto spesso Non può essere rotta Quindi Se De bannate E quanta Fanno bannare Bella Libro Mancer Prevented Se controlliamo Il mostro Libro Mancer Rattargettiamo Un mostro Scoperto L'avversario Ok In questo turno Non può essere utilizzato Come materiale Fusione Syncrix Isolink Ok Una volta Per turno Durante la Mindface Non controlliamo Libro Mancer Rituali Andiamo Questa è la Il cimitero Ok Potrebbe essere Carina Come carta Magari Non è Pazzesca Però Può essere Interessante Detto questo Queste erano Le carte Le carte Fino Alla 94 Mi sa Del 7 Credo ne mancano 6 Fatemi sapere Cosa ne pensate Ringrazio ancora Dualdeddy La minima idea Di Yuki Sia Ma comunque Lo ringrazio Ovviamente Ci sarà Il link In descrizione E noi Come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti